Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video qui sul canale Oggi video diverso dal solito, sarà un video tutorial a tema Pixelmator Per chi non sa cos'è, è un programma molto simile a Photoshop Infatti se cercate una guida per Photoshop, questa guida fa anche per voi Sì, le cose non sono identiche, ma comunque sono davvero molto 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 simili Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere, iniziamo subito con il video Allora, ci tengo a dire che questa sarà una guida introduttiva Poi uscirà anche una seconda parte nello specifico Dove vi mostrerò funzioni più avanzate E addirittura forse una terza parte, se questa serie vi verrebbe piacere Magari lasciate un like così mi fate capire che posso fare uscire altri video Allora, prima apriamo l'applicazione, possiamo trovare qui i file recenti Come potete vedere qui infatti c'è la cortina dei video e il logo del canale In questo caso le altre non le ho salvate, quindi non mi resteranno qua Sul lato sinistro abbiamo i vari tipi di importazione dei file che possiamo avere In particolare abbiamo, crea un documento dove lo creiamo appunto da zero Un foglio bianco, addirittura da un modello Apriamo appunto dalle foto, le foto appunto che si trovano sul Mac Oppure dai file del Mac Quindi se si trovano sulla scrivania o meno In questo caso qui possiamo sia cercare i file del Mac facendo qui Quindi andiamo a cercare all'interno del download, immagine e così via Oppure possiamo direttamente trascinare tutti i file all'interno del logo dell'applicazione Quindi esattamente qua Ma noi iniziamo con il vedere, crea un nuovo documento Allora, ci compare subito questa schermata Dove abbiamo qui l'ultima utilizzata, quindi l'ultima dimensione che abbiamo utilizzato E il predefinito Tuttavia possiamo anche modificare la dimensione qui al lato Dove c'è questo menu multifunzione Modificare la larghezza e l'altezza Sia millimetri, pixel, pollici In tutti quanti i tipi di dimensioni che volete Risontale o verticale Addirittura modificare anche la risoluzione Addirittura se vi serve un foglio A4, un foglio A6 Qui abbiamo tutti quanti i tipi di carta Quindi foglio A4, personalizzato, personalizzato Quindi ad esempio Carta internazionale A6, A5, A4, A3 e così via Ci sono tutti quanti i tipi di carta Anche quelli statunitense, foto, quelli web Vi vedete qui anche da Vari dispositivi Macbook Air Tutti quanti di varie dimensioni Se magari dovete creare uno sfondo Se magari dovete postare la vostra foto su Instagram Oppure fare qualsiasi altro tipo di cosa E come vedete vi da già una Un'idea di cosa magari volete fare Volete fare una copertina per Un volantino Qui ci sono queste qua Tutte quante che possono andare bene Addirittura questo qui è magari più di effetto Quindi possiamo andare da Creare una semplice copertina A creare una vera e propria campagna pubblicitaria Se così possiamo dire Potete anche addirittura Vedete al lato post social media Storie di social media Quindi tutte quante varie tipi di dimozioni Che voi volete Addirittura abbiamo anche vari prodotti Quindi dispositivi Apple, iPhone, iPad e Macbook Se dovete creare appunto Ora scegliamo questa qui Quindi crea Qui in basso Lui ve lo crea Potete caricare diciamo questo modello E qui all'interno vedete Vi da già il segno più Dove potete caricare un'immagine Che voi volete Qui in basso vi da questo pulsantino qui Che vi permette di cambiare le luci Come potete vedere Quindi da una luce magari più dark light Una spotlight Quindi magari qui più incentrati sul modello Potete modificare anche tutte queste cose Dal pannello dei livelli Che però andiamo a vedere dopo E questo è bene o male È una breve introduzione Ai modelli che potete avere Quindi modificare le immagini Cambiare le luci qui in basso E addirittura cambiare i colori Qui in alto Che c'è questa palette di colori Da questi tipi di colori qui Fino a qualsiasi altri colori qui Ma ora andiamo a creare un documento vuoto Per illustrarvi tutto quanto Allora siamo in questo foglio vuoto Allora qui al lato abbiamo i livelli Quindi c'è sempre la regola Che il livello più alto Viene mostrato Viene mostrato prima Rispetto a quello che è più in basso Quindi se abbiamo un livello Più in alto rispetto a un altro Quello in alto verrà mostrato Sempre Mentre quello in basso Verrà coperto da quello in alto Appunto Qui in alto possiamo trovare invece L'opacità del Vedete Del foglio che abbiamo E il metodo di fusione Abbiamo tantissimi metodi di fusione Qui invece abbiamo Possiamo modificare l'interfaccia Diciamo se possiamo dire Quindi se mostrare l'opacità in basso O in alto Puoi mostrare il livello Se normale, medio O così via Una parte che ci può interessare molto È quella di inserire Regolazioni del colore Effetti Testo Forme Qualsiasi tipo di cosa Quindi c'è già un pannello Un pannello che vi aiuta Nella scelta Di quello che volete aggiungere Mentre qui al lato Aggiungete semplicemente Un nuovo livello vuoto Senza neanche riempimento Partendo da vari strumenti Qui abbiamo lo strumento di selezione Che vi permette di spostare le cose Di spostare le cose E anche in certi casi Anche di ridimensionarle Come potete vedere Ed è possibile raggiungerlo facilmente Con il tasto V da tastiera Qui al lato abbiamo invece Il tasto stile Come potete vedere anche qui Dal pannello qui a fianco Che Come potete vedere anche Come potete vedere anche Dal pannello qui a fianco Che vi aiuta Nel decidere Quali sono le cose Che dovete scegliere Qui abbiamo vari Preset Gradiente E così via Oppure potete andare via Scegliere direttamente voi Se riempirlo Con un colore specifico Ma c'è anche vari tipi Di gradiente Con un tratto Quindi tratteggiare In questo caso Mettiamo interno Così lo facciamo vedere Vedete Mano a mano Compare questo Questo contorno Mettiamo bianco Così lo vedete meglio Un'ombra interna O un'ombra esterna Che a mio parere È molto utile Per i testi Nel pannello invece Regolazione del colore Che possiamo vedere Sempre qui in alto Possiamo trovare invece Vari tipi di regolazione del colore Dall'ambilanciamento del bianco Alla luminosità Quindi esposizione Contrasto E così via Al tono e saturazione Al colore selettivo Quindi se dovete modificare Direttamente Un determinato colore E basta Al bilanciamento del colore Quindi attraverso Questi tipi di modelli Oppure a livelli Possiamo abilitare le curve Sostituire un colore Per un altro Quindi magari avete Non so Un cielo blu Voi basta Che andate Con questo pennellino A cliccare qui Sostituire Con un altro colore In mare in blu Vede rosso E ve lo sostituisce Ora qui Non ve lo fa Perché appunto L'avete riempito voi In questo caso Potete creare anche Una dissolvenza Come potete vedere qui In bianco e nero Colore di modo cromatico Quindi rendere Di uno stesso colore Tutto quanto Ma qui Come potete vedere Ci sono tantissimi menu Che ancora non sono stati aperti E che se vi servono Però potete benissimo Aprirli Qui in alto Abbiamo invece L'ultimo menu principale Che è il menu effetti Dove potete aggiungere Una miglia di effetti Dalle sfocature Tutti i tipi di sfocatura Distorsioni Nititezza Regolazione di colore Porzione Stilizzazione Quelli magari dipinti Vedatura Luce piatta E così via Ci sono anche L'effetto bokeh Ci sono anche Dei gerenatori In questo caso Stelle Scacchiere Come potete vedere Riempirlo Con un colore O direttamente Con un gradient Felo Un pattern Oppure Semplicemente Trasformarlo In modo Perspettivo E così via Quindi qui Questo è uno dei menu Principali E anche fondamentale Che potete trovare Quando caricate Anche un'immagine Qui sopra Vi comparirà anche Vari tipi di Preset Che lui vi propone Andando avanti Qui abbiamo Vari tipi di Strumenti Per la selezione Dal strumento Laso normale A questo qui Fino a Ok Vediamo Fino a Con il tasto Destro In questo caso Con il trackpad Conduitita Possiamo andare a vedere Vari strumenti Poligonale Rettangolare Selezione ellittica Selezione magnetica E così via Successivamente Qui possiamo trovare Invece Selezione rapida Come c'è anche In photoshop E successivamente Selezione in base Al colore Vedete In base alla gamma Che io vi dico Di prendere Lui prende Quel determinato colore Qui c'è invece Lo strumento Ripara Qui invece c'è Lo strumento Ripara Che ora vi mostrerò Con un esempio Allora Ho preso questa foto qui Per l'illustrati un attimo Allora ad esempio Se voi volete Se voi volete Togliere Questo loghetto qui In base a che ci passate sopra In questo modo qui Che di gioco è fatto Ovviamente Mai ci vorrebbe essere Qualche sbavatura Ma Ci ripassiamo di nuovo E viene tutto quanto perfetto Non sembra neanche Che c'era quel logo lì Volete togliere anche la scritta Non c'è nessun problema Vedete È tutto molto 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 facile Qui al lato Abbiamo sempre La dimensione valida E pennello Se campioniamo Tutti quanti i livelli O meno Al lato abbiamo Il strumento clone Che magari molti di voi A cui magari molti di voi Interesserà Come potete vedere Clona direttamente Il numero qui sopra Ed è molto molto utile Anche se dovete Semplicemente Mascherare un qualcosa Quindi campioniamo Questo livello qui E togliamo Per campionare Basta premere il tasto option E Come potete vedere Vi compare Questa specie di pallino Con la X in mezzo Con una croce in mezzo E poi li lasciate E voi potete colorare A vostro piacimento Strumento pennello Appunto per Semplicemente colorare O comunque dovete fare Diverse cose Appunto sempre colorando Strumento secchiello Anche questo molto utile E anche insieme Allo strumento gomma Abbiamo una serie di strumenti Che vi permettono Di aumentare La nitidezza Di aumentare La sfocatura Diciamo quindi Attenuare Quelli che sono Gli oggetti Magari e così via Ma neanche i contorni Qui abbiamo lo sfumino Quindi vi sfuma Principalmente i contorni E poi qui abbiamo invece Il strumento satura E desatura Allora satura In questo caso Vedete ci aumenta La salutazione Dove coloriamo Doppio click E ci desatura Invece il tutto Qui abbiamo invece Una cosa simile Ovvero la Schiarisci O scurisci Quindi andiamo ad esempio A scurire una parte Oppure a Schiarirla Mai si riesca A modificarlo Oppure andiamo a schiarirla Qui abbiamo invece Semplicemente Lo strumento deforma Che ci sono diversi Sempre con il Sempre con il tasto destro Possiamo vedere Vari tipi di deformazioni Quindi deformarlo E aumentare La sua dimensione Alterarlo Quindi Di deformarlo Quindi schiacciarlo Un pochettino E alterarlo Quindi ingrandirlo Un pochettino Impatto O a spirale Vi faccio vedere un esempio Vedete Io in questo caso Sto modificando La sua dimensione Lo sto Rimpicciolendo Oppure addirittura Posso fare un impatto Quindi aumentare La sua dimensione O addirittura Stravorgerlo A spirale Come potete vedere Vari molto utili Per quando dovete mescolare Semplicemente Due colori All'interno di un foglio Questo vi potrebbe essere Molto utile Strumento penna Che vi devo dire Non lo uso molto Ma potete Comunque Molto molto funzionante Vi permette di creare Forme geometriche Proprio come volete voi Da Le più complesse Le più semplici È un strumento davvero È un strumento davvero Molto molto complesso Ma davvero Molto Molto efficace Potete Assommare Tutto quanto In selezione Potete Renderlo fluido Rimettere il percorso Rende modificabile Quindi potete andare A modificare Direttamente Agire sul percorso In questo modo Qui Anche dopo Mi devo dire È un strumento Che a mio parere È davvero Molto Molto Utile Un altro strumento Utile È lo strumento Rettangolo Rettangolo Quello vediamo Con Ma li lo vediamo Con gli angoli smussati Non basta andare qui E ce li smussa Ma qui Ci sono ad esempio Ci sono davvero Moltissimi Moltissimi Preset Basta cliccare Su forma Qui E vedete Ci sono davvero Moltissime forme Tantissime Proprio Qui Infine Lo strumento testo Questo vi vorrebbe Essere molto utile Mi serve molto Per creare Le copertine Dei video Qui abbiamo Utilati sempre I vari I vari I vari menu Per modificare Il tutto E poi infine Modorità a mano Per spostarci All'interno Della foto Quello che è Insomma E poi infine Anche il strumento Tollente Per avvicinare O diminuire La dimensione Cosa che potete fare Anche tenendo premuto Il tasto option E andando avanti Indietro Con il trackpad Vedete Fare questo O questo E poi infine Il strumento Ritaglia Che comunque Vi permette di ritagliare Il tutto Come volete voi O addirittura Ritaglio ml Che ve lo ritaglia In automatico E vedete E vi fa una specie Di ritaglio automatico E poi Vole la sistemate Come volete voi Qui al lato Possiamo anche personalizzare I strumenti Se vuoi aggiungere Altri strumenti O meno Poi andando nel menu Qui in alto Possiamo vedere Possiamo avere Due palette di colori Questo è molto utile Per i pennelli E quindi Ma da una parte Mettiamo il bianco Da una parte il nero E quindi Di conseguenza Ci colorerà Con questi due colori A seconda di quale Cambiamo Qui al lato Abbiamo invece Lo strumento Rimozione sfondo Ora questa immagine È molto complessa Quindi non credo Che funzioni davvero Molto bene Ma lo fa totalmente In automatico E infatti Non l'ha preso bene Però In altre foto In cui Ci siete Semplicemente voi E c'è uno sfondo Comunque Che non è Mai dello stesso colore Della vostra maglia O della vostra testa Ve lo scontorna davvero Molto bene E vi muove molto bene Lo sfondo Qui invece Vi si leziona Semplicemente il soggetto Se dovete andare A applicare Le varie modifiche Allo soggetto stesso O qui addirittura Il tasto ML Che ovviamente Apri la risoluzione Dell'immagine Quindi ad esempio Adesso è un 2103 Quest'immagine Per 4200 Vado a fare ML E lui piano piano Elabora Aumenta la risoluzione Dell'immagine Rendendola meno sgranata E con più qualità Appunto Ora ci mette Un pochettino Semplicemente Se l'immagine È abbastanza grande Ma una volta che ha finito Vedete Guardate qui Aumenta l'immagine A 6549 Per 12000 Addirittura Quindi è addirittura Molto Io ora ho nullo Perché sennò Mi esplodo il computer Qui vi permette Di ruotare le immagini Semplicemente Qui in alto Vi da altre azioni Che però Non sono poi così tanto utili Qui vi permette Di nascondere Invece Quella che è La tendina del menu E banalmente Questo è tutto Pixelmator Poi ci sono Come ho detto prima Anche qui in alto Vedete lo zoom Ci sono moltissime cose Che sono nascoste In questa applicazione Magari vi farò Un altro video Se questo video vi piace Magari lasciate Un like Così mi fate capire Se questo format Vi va a piacere Spero che questo video Ti sia stato utile Noi ci vediamo In un prossimo video Appunto fammi sapere Se questo video E fammi sapere Se vuoi video Come questi Iscrivete quindi Anche al canale Perché mi rendi Davvero molto contento E attiva la campanellina Se ancora non l'hai fatto Ovviamente Quindi noi ci vediamo In un prossimo video E ciao ragazzi